Buongiorno a tutti, saluto a tutti, un bacione. Vi racconto la mia passione per la bici, è nata da quando ero piccina piccina, già da quando ero ai primi anni della mia vita, ho iniziato ad andare in bici, grazie a degli amici di Bustor Sitio che mi hanno messo sulla bici, mi hanno cresciuto a livello agonistico, anno dopo anno. La mia passione è nata per la mia famiglia, perché mio padre correva in bici, i miei cugini, avevo tre cugini che correvano in bici, e da loro piano piano è crescita una scommessa su chi correva di più, e l'ho vinta io, perché sono 15 anni che proseguo questa passione, anche grazie al mio paese a Capodarco che c'è una grande passione per la bici. Il mio sogno nel cassetto sarebbe quello di proseguire i più anni possibili, riuscire ad ottenere risultati a livello mondiale, speriamo bene, l'impegno c'è già tutto, e via. Speriamo il migliore dei modi ogni cosa, l'impegno è sempre massimo. Muri fermani, corre in casa? Eh, l'anno scorso è stata fatta il giorno dopo del matrimonio della mia sorella, quindi è stato già tanto che l'ho finita. Quest'anno la forma sembra maggiore, vediamo quello che succede, altronde in gara si vedono i passi, ogni pedalato dopo pedalato si vede com'è la gamba, com'è la gara, vediamo, speriamo bene. Ok, grazie. Grazie. Grazie.